Febo si guarda già le prossime elezioni, è sciolto il Consiglio, il centrodestra ribadisce alla volontà di andare alle urne in autunno. Qualcuno sta cercando di spostare la data delle elezioni che sono sicuramente o l'ultima domenica di novembre o la prima di dicembre, perché ci sono tutti i tempi per arrivare a queste che sono date. Non è pensabile spostare le elezioni a gennaio o a febbraio, perché chiaramente l'Abruzzo ha molti comuni oltre i millimetri, e quindi magari aspettare addirittura marzo. C'è un anno, un Consiglio regionale, un'aggiunta che non ha prodotto nulla se non spese per i cittadini, con un'economia che è quella che è, l'ultimo dato drammatico, quello delle presenze turistiche, meno 16% come ultimo dato, siamo l'ultima regione d'Italia, l'unica regione insieme a Molise a percorso dati negativi e quasi scherza in un cambio di vertice che mi sembra che gli abuzzesi oramai chiedono a gran voce. Capitolo candidati di Forza Italia, ci sono tanti nomi in ballo, c'è anche il suo, quello del sindaco di Chieti di Primio, del sindaco di Pratola di Nino, ci sono tanti nomi. Cosa farà Forza Italia in vista di queste elezioni, anche e soprattutto dopo la frattura con la Lega in Abruzzo? No, ma oggi non c'è stata nessuna frattura, sono momenti di confronto che magari portano a sembrare, non c'è nessuno, c'è un confronto aperto, un tavolo regionale che già si era riunito, si continua a riunire, andremo con la Lega a cercare il candidato più forte, che dà più certezza della vittoria, che riesce a mettere insieme tutta la coalizione, che ha un programma che tutta la coalizione sostiene. Io sono onorato che Forza Italia ha tenuto in concerto il mio nome, vedremo che cosa succederà. Siamo soddisfatti del lavoro, almeno per quanto mi riguarda, fatto in questi 52 mesi come opposizione, mi sembra di aver denunciato ciò che stava accadendo in Abruzzo e le mie denunce hanno portato, credo, ad un risultato negativo per chi ha governato e dà la possibilità a chi magari ha esperienza, anche prima di governo e poi di opposizione, di poter presentarsi con un volto diverso.